è appena finita la partita Roma che batte Empoli 2-0 con i Mkhitaryan e Pellegrini buonissimo così anzi di Pellegrini e Mkhitaryan tra l'altro quello di Pellegrini bellissimo gol Namo arca puttana dopo il derby purtroppo diciamo regalato per i primi 20 minuti ci riprendiamo tutto quello che è nostro come diceva Gomorra cazzo ottima partita giocata oggi dalla Roma grande Abram che purtroppo ha preso il palo però arriveranno i gol decisivi buona prestazione anche da parte del Zagnolo buona Roma tutto l'arco della partita forse un po' il primo tempo un po' offensivamente poco elaborati ma però nel secondo tempo molto molto più Roma Empoli quasi nulla onestamente non ho visto grandissime parate di Patricio sinceramente temevo questa partita perché l'Empoli davvero non so da perà non so duro però anche questa è fatta quindi altra vittoria per la Roma i sol bianco celesti oggi ha mezzo 3 a 0 porca troia mamma mia seppino per cura soli spattuto leva con le tre perette il segno del piang oggi tre peri amplice loro vedrai un po' oggi un po' te e un po' io cazzo benissimo così Roma che ritorna alla vittoria passiamo una bella sosta prossima partita che saranno fatti l'Italia e quindi bene così ampiamente contento direi tra l'altro anche ti importa 7 a 3 per la Roma quindi c'è poco l'ha di questa partita onestamente forse potevamo vincere con qualche gol e più lo riscarto ma vabbè onestamente quando arriva la vittoria gli scorsi che lasciano il tempo che trovano da una morigna ci avvodiano le linee personali perché scappa sempre dall'area dell'allenatore quindi fa proprio ridi poca toia proprio una macchietta lì e comunque ottima ottima Roma oggi grande pellegrini che rinnova anche il contratto fino al 2026 ampiamente meritato soprattutto quest'anno che sta trovando tantissima continuità e qualità direi e quindi benissimo così oggi poco la dì nessuno è insufficiente secondo me bene anche Zaniolo che ha fatto diverse gruppate manca sto benedetto gol ma arriverà sicuramente e niente buono così adesso pensiamo alle prossime partite e adesso penso a mancare l'Italia che si ritorna in campo con la nazionale e niente appuntamento alla prossima e sempre 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 forza Roma un po'